Coppie, avete scoperto le tre destinazioni, adesso dobbiamo testare la vostra conoscenza geografica e di cultura generale sui luoghi che visiterete. Potrete brevemente consultarvi prima di scrivere la risposta sulla lavagna che avete di fronte. Avete dieci secondi per ciascuna domanda. Siete pronti? Sì, siamo nati pronti. Diciamo di sì per principio. Esatto. Si studia in terza media questa cosa qua? Mamma mia che ignorante. Uno. Dai. Mau, posso dargli del tu? Il mao. Mau, se, mao, tse, tung. Ma quante ne sono? Mau, se, tung, vabbè, mao. Tipo quello che ha detto il gatto quando è cascato dalla finestra. Giraffe. No, tung. Gobi. 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 Secondo me è un costume tradizionale. Il deserto del Gobi. G-O-B-I. Sarà la loro costituzione. Ma che è qualcosa da mangiare? Il deserto. Non è un vestito. Ma che vestito? A me sembra un vestito. Ma no, è una catena montuosa. Ragazzi, cioè, cavolo, mi sento una strafiga dove dicevano boh. Ci troviamo nell'anno del qualche animale, premio. Sicuro? Sai che loro sono tutti strampalati. Io sono del topo e l'anno del topo. Io sono un coniglio, mi sembra. No, è del topo. Pesce. No. Mettiamone due così. Pesce e topo. Castoro. Lo scogliattolo. L'anno dello scogliattolo. So che tipo in Giamaica e Rastafaglia penso che siamo nell'85. Secondo te stanno più avanti di noi? Beh, perché essendo una cultura così antica può darsi che hanno iniziato a contare prima naturalmente di Gesù Cristo. E' l'anno del topo. Perché è il tuo anno? No, la puzzola viene dopo. Ma cinese? E magari iniziano a contare dopo che è arrivato Mao. Non so sicuro se è Shanghai o Pechino. 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 Express pure. Anzi, io te lo scrivo anche un po' cinese. Allora, questo è scritto in cinese qua in alto. Pechino? Oh, è Pechino o è Shanghai? Eh sì. Io dico Pechino. Pechino, Pechino. Brava, brava. Ah, baby. Hong Kong è Shenzhen. Non è Shanghai, è Shanghai, no? Shanghai, su Sittà. Questo è Pechino? Pechino. Hong Kong dov'è? Però Hong Kong ora non è tipo di fa parte della Cina ma non si sa ancora. Per non ripeterci, io farei Shanghai. Shanghai è famosa per essere super popolata. Shanghai. Shanghai. 6space pescare 12 2 3 Ripeter